Il Bus del Buson, toponimo dialettale usato per identificare questo straordinario chelion fossile è situato alla destra del sentiero utilizzato per raggiungere il rifugio settimo degli alpini allo schiara. Percorso molto semplice ma che ci porta in un luogo magico, misterioso, carico di suggestioni di fascino antico. Partendo dal parcheggio del piccolo abitato delle case Bortot, circa 20 minuti in auto sopra la città di Belluno, si percorre una strada serrata in direzione al settimo degli alpini per una ventina di minuti fino ad arrivare al cartello che ci porta a destra dove una facile discesa ci conduce in una mezz'ora scarsa all'ingresso del canyon. Il sentiero non presenta particolari difficoltà. Una volta percorso tutto l'anfratto si nota, oltre l'uscita, l'itinerario di risalita che ci permette un giro d'anello di circa un'ora e mezza. Il sentiero non presenta particolari difficoltà. Il sentiero non presenta particolari difficoltà. Il sentiero non presenta particolari eccolo e imprend dit Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.